Signori, ufficialmente arrivati alla semifinale, Germania-Italia, non si sa se questa la vinciamo o la perdiamo, ecco i tifosi italiani come sempre, anche quelli della Germania, inizia la partita, attenzione Parata, parata, potevamo fare gol, tutti ce la siamo visti in porta, attenzione, continua Parata, parata, parata di nuovo, parata di nuovo, si continua, fuori Fuori, fuori Semifinale dell'Europeo, chissà se lo vinciamo lo perdiamo, non si sa Saremo noi i campioni d'Europa 2020? Non lo so Si continua Continua Gol! Gol dell'Italia! Gol di Chiellini! Gol di Chiellini dell'Italia 2 a 1, attenzione Gol! Gol dell'Italia! Siamo alla semifinale Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso la semifinale Ebbiamo perso Eeeh 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 La semifinale degli europei Ma ci rifaremo il prossimo anno Questo è sicuro Ci rifaremo il prossimo anno Eh Eh Volevamo vedere tutti quanti la coppa al Sarsi Non è andata come volevamo Forse è coraggio che si continua Abbiamo perso Eh 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 Purtroppo è andata così Abbiamo perso contro la Germania Pensavamo di vincerla Eh Abbiamo perso La semifinale Niente Eh Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso